La nostra capacità di fare turismo è un modello in tutto il mondo. Il Comune di Chiavenna è stato scelto come capofila a livello internazionale per il coordinamento del turismo di tutte le città slow. Un riconoscimento prestigioso assegnato nel weekend alla città del Mera dall'Assemblea Città Slow International. Oggi è una giornata storica per la città di Chiavenna e per il movimento Città Slow. L'Assemblea internazionale di Città Slow International ha chiesto alla nostra città di coordinare il lavoro dell'intera rete associativa mondiale sul turismo, in particolare sul turismo all'aria aperta. È un riconoscimento del lavoro fatto, decisamente un passo avanti. Da oggi si apre un nuovo capitolo. Era stata una grande conquista l'adesione al movimento Città Slow. Oggi siamo in capofila nell'ambito del turismo e quindi da qui parte un nuovo percorso che vedrà la nostra città lavorare attraverso il consorzio turistico con tutte le città slow del mondo, oltre 300 realtà, che insieme a noi lavoreranno per offrire dei pacchetti turistici legati al territorio, ai percorsi, ai sentieri. Un ruolo che conferma il buon lavoro portato avanti negli anni dal consorzio turistico della Val Chiavenna e che consentirà al nostro territorio di farsi conoscere oltre confine conquistando con la nostra offerta nuovi mercati. Un riconoscimento che cade proprio quest'anno a 20 anni della proposta Fletching della Via Spluga che verrà presa, ad esempio, quale modello di turismo in slow e soprattutto di integrazione di territorio, cultura e gastronomia per il resto del mondo. Un ruolo privilegiato e importante è quello che si dovrà svolgere il consorzio turistico di confronto con altri operatori mondiali. Un po' più importante si diceva per la redazione di vere e proprie linee guida, per la creazione di modelli di turismo odore, di proposte trekking simili a quanto già fatto in Val Chiavenna e che consentiranno al consorzio turistico di confrontarsi e di entrare in una rete di promozione mondiale per portare l'intera offerta turistica odore della Val Chiavenna in giro per il mondo.